buongiorno come posso aiutarla buongiorno mio marito ha la febbre vorrei un antibiotico per l'antibiotico ho bisogno della ricetta medica ce l'ha no deve chiamare il suo medico e farsi fare la ricetta puoi intanto darmi un farmaco da banco posso darle un antipiretico per abbassare la febbre il paracetamolo per esempio vuole le compresse o le bustine oro solubili le compresse quando vanno prese è scritto nel foglietto illustrativo per gli adulti una compressa ogni quattro ore senza superare le sei somministrazioni al giorno va bene grazie ha la tessera sanitaria per cosa scusi per detrarre il costo del farmaco dalla dichiarazione dei redditi sì certo ecco a lei bene questo è lo scontrino buona giornata buongiorno buongiorno il dottore mi ha prescritto questo antinfiammatorio per il mal di gamba sì dovrebbe darmi la ricetta sì ecco è un antinfiammatorio non steroideo in capsule da 50 mg va preso due volte al giorno dopo i pasti ha delle controindicazioni come tutti i farmaci può avere effetti collaterali le controindicazioni sono elencate nel bugiardino in generale non va preso se si hanno reazioni di tipo allergico al chetoprofene non credo di essere allergico grazie quanto viene questo è un farmaco mutuabile inoltre lei è esente dal ticket sui farmaci quindi non deve pagare bene grazie mamma mi fa male la gola sì entriamo in farmacia e chiediamo al farmacista cosa puoi prendere buongiorno mio figlio ha la gola irritata e la tosse buongiorno signora ha la tosse secca o grassa grassa con muco vuole delle compresse o lo sciroppo meglio lo sciroppo se non dovesse passare deve chiamare il suo medico sì certo vorrei anche un termometro per favore un attimo che vado a prenderlo in magazzino ecco a lei in totale sono 30 euro vorrei qualcosa per i miei occhi arrossati mi faccia vedere potrebbe essere una congiuntivite sono allergico al polline mi bruciano e ho le palpebre gonfie le do un collirio deve mettere una goccia tre volte al giorno preferirei un prodotto omeopatico sì abbiamo anche medicinali omeopatici per esempio questo deve applicare una due gocce in ciascun occhio due volte al giorno premendo leggermente il contenitore monodose grazie buongiorno ho un forte mal di schiena le consiglio un antidolorifico in crema ho già provato con le creme ma non hanno funzionato può provare con queste pasticche vanno prese a stomaco pieno quindi dopo i pasti bene ha qualcosa per il mal di schiena tra gli articoli sanitari ho una fascia elastica termica che può aiutare contro il dolore quanto costa? 25 euro va bene la prendo vorrei anche due siringhe e dei cerotti se ti è piaciuta questa lezione non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un bel pollice in su ci vediamo alla prossima lezione ciao 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 ciao